A tutti noi è capitato di dover aspettare. A volte erano attese di cinque minuti, altre da ore, certe da giorni, altre ancora da mesi. A volte l'attesa era eccitante, divertente, altre pauroso e ci faceva agitare. Ma sapete, il dipinto che state guardando è di un pittore molto bravo che conosce molto bene l'attesa. Oggi qui con noi dobbiamo solo attendere un attimo e si presenterà. Ciao, sono Ferdinand Georg, ma gli amici mi chiamano Georg. Sono nato a Vienna il 15 gennaio di ben 228 anni fa. So che cosa state pensando, è trascorso davvero tanto tempo e qualcuno di voi, molto preciso con i numeri, vi avrà già detto anche l'anno esatto. Sono andato via di casa a soli 14 anni e così ho dovuto guadagnarmi molto presto da vivere. Per talento e per lavoro sono stato pittore e insegnante d'arte per i figli di un conte. Ho fatto molti viaggi in Italia e a Parigi. Fui così bravo che alla mia morte fui nominato Cavaliere del Re. Adesso, se non vi dispiace, vi mostro qualcosa in cui ero molto famoso. Conoscete questo genere di pittura? Sono ritratti, ne ho fatti davvero tanti. Da bambino ho vissuto in campagna dove sono tornato spesso da adulto per dipingere la vita quotidiana dei contadini, come scene domestiche, feste e il lavoro nei campi. Osserva questi dipinti. Cosa ti sembra che abbiano in comune di speciale? La luce, esatto! Per realizzarli ho adoperato una tecnica chiamata en plein air, che significa all'aria aperta. Ho realizzato anche miniature per decorare manoscritti e libri antichi. Io ho amato tanto dipingere i paesaggi. Ti va di ascoltare una storia? Bene, allora siediti, accendi l'immaginazione e la fantasia. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.